Ho incontrato Lorenzo Guerini per parlare di due argomenti importanti. Innanzitutto le elezioni amministrative, dove Italia dei Valori sarà nella coalizione di centro-sinistra per governare le regioni italiane. È la questione della legge elettorale. Ho chiesto a Guerini che venne innalzata la soglia per ottenere il premio di maggioranza, almeno al 40%, per fare in modo che chi pierde il premio di maggioranza abbia veramente i numeri per governare, ma anche la possibilità all'interno della coalizione che tutti i soggetti che fanno parte della coalizione possano avere una propria rappresentanza in Parlamento. Così si può raggiungere un obiettivo vero, quello della piena democrazia e dall'altra parte di un governo vero del Paese.